Leonardo Silva Revisore Prima c'erano delle altre cose, cose molto più alla mano. Mamma mi diceva che per fare un albero, no? Ti ricordi? Per fare un tavolo ci vuole legno, per fare legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, pensate! Magari un bambino a Scampia dice al papà papà volesse un tablet e il papà gli canta per fare un tablet ci vuole i soldi, per fare i soldi ci vuole un ship, per fare un ship ci vuole una borsa, per fare una borsa ci vuole una vecchia, ci vuole una vecchia e gli dai un fiore e le si commuove, per fare un tablet ci vuole un fiore. E' uguale! Grazie!